Oh, ciao! Anche tu qui! Ma pensa te! Ma sì, sono Narciso67! Eh sì, quello con gli occhi un po' storti. Eh, cosa vuoi farci? Nessuno è perfetto. Ma sì, non ti ricordi? Ci siamo beccati una sera su una chat erotica. Eh, sai, io da solo ho detto, vabbè, proviamo un po' questa chat erotica, cosa vuoi che ti dica? E ci siamo beccati lì. Mi ha fatto vedere un po' di carne, un po' di curve, anche piedi, tra l'altro, sì, vabbè. E poi, puff! Adesso? Devo andare a chi l'ha visto? Non lo so. Comunque, ma sì, sì, sono Narciso67, che c'era la battuta, Narciso era un bel giovane, tu come fai a farti chiamare Narciso? Non capisco. E io che ridevo perché dicevo, ma è meglio fare un buon viso a cattivo gioco perché magari ci scappa la scopata. Si può dire scopata? Una ramazzata? Una ripulita? Come si dice? Un coito? Un coito? Comunque, ma sì, certo, con la mascherina è difficile riconoscersi. Ma mi sembravi tu per via del tallone, sì, avevi mostrato questo tallone levigato, molto levigato. Dicevo, ma guarda, ma guarda, e oggi vado a fare la spesa, sì, al Galassia, lì al suo mercato di Corsissima, e mi sto nascondendo gli occhi perché mi vergogno un po'. Ho detto, ma vuoi vedere? Ma guarda, ma sì, ma sì. Certo, con la mascherina siamo tutti riconoscibili. Io forse no, perché sono fatto a pera, ho le spalle strette. Mi dicono tutti che sei fatto a pera, sei perico. Vabbè, pazienza. Sono un prodotto di nicchia, te l'ho detto, per ridere, no? Cos'hai comprato di bello? Ah, scusa, non mi posso avvicinare, almeno un metro, hai ragione. Posso almeno presentarmi a distanza? Sono Narciso 67. No, non è anche questo. Vabbè, comunque, magari stasera sulla chat erotica ci si ribecca. No, non ci sei più. Infatti, non ci sono più visti. Ah, hai trovato famiglia? Ah, auguri! Che bello, auguri! Vedi che le chat funzionano, eh? Tra una secca... Tra una chiacchierata e l'altra comunque funzionano. Bene, bene, bene. Vedi che qualcuna ha fortuna nella vita. Sì, 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 certo, certo. Metti gli occhiali perché, vedi, sono abbagliato. Abbagliato della tua bellezza, si può dire? È un po' troppo barocco? E poi barocco non piace più. È superato, insomma. Parliamo un po' più moderno. Ah, vedi, oh! No, forse questo è troppo. Comunque, sì, sono sempre Narciso 67. Sì, vabbè, Narciso era un bel giovane come fai ad essere Narciso se sei ucciso. Grazie, grazie. Comunque, felicitazioni. Mandatemi i confetti. Vengo volentieri a tirarvi il riso. A tirarvi il riso? Vengo volentieri. Ma guarda te, ma guarda te, ci eravamo detti, mi faccio sentire e ci siamo beccati a fare la spesa dopo nove mesi. Praticamente una gestazione. Scusa, non volevo, non volevo, scusa. E beh, comunque è sempre bello incontrare gente, no? Tutti con la mascherina, tutti in coda, tutti schiacciati come sardine, ma tanto. Almeno un metro. non mi sembra proprio. Boh, speriamo bene. Io non so cosa dire. Comunque, ti posso mandare un bacio. Neanche questo. Che poi, sì, scateniamo le gelosie. Capisco, capisco. Vabbè, stasera io magari torno... Ah, non ci sei, già, non l'hai appena detto. Vabbè, vado a casa a posare i suggeriti, i suggeriti che mi si squagliano. Mi si sciolgono i suggeriti, è un casino che poi il minestrone non viene buono. Mi rimetto il mio cappello, mi rimetto i miei occhiali e torniamo a casa. Come? Non ho la mascherina. Sì, perché sono già a casa. Facevo lo spiritoso. neanche questo. Vabbè, faccio bene. Felicitazioni. Felicitazioni.